Corsa elettrica allo stadio per la finale dei 400 piani. Otis Davis ha una partenza da Leopardo, insegue il tedesco Kaufman, il grande favorito. Ai 300 è addosso al primo con azione scioltissima. Kaufman, che ha spinto troppo in curva, ha consumato ogni energia, ma corre allo spasico. Vince Otis Davis di un soffio. Vista il rallentatore, la gara diventa memorabile. Otis Davis e Kaufman finiranno con lo stesso tempo di 44 e 9. Incredibile. Se il tedesco spinge con agilità, il negro accelera trovando la forza di cambiare ritmo. Lo sprint è terribile. Il tedesco si distende con sovrumano coraggio, dà l'impressione di potercela fare. La fotografia decide. Vince Davis. Kaufman ha dato tutto e cade svuotato. Terzo, il sudafricano Spencer davanti all'indiano Singh. Lo stadio è in delirio.